Crollo cimitero si stimano 320 i defunti coinvolti, oggi messi in sicurezza la falesia si scava tra le macerie, 220 invece i loculi coinvolti nella frana, ma secondo la ricostruzione del comune di Camogli non tutti con una sola sepoltura all'interno. Ieri intanto il personale del Com Subin ha recuperato altre 6 salme portando il totale a 32, oggi ultimata la messa in sicurezza della falesia con la stesura delle reti di contenimento, domani inizieranno i recuperi tra le macerie dove si stima siano la maggior parte delle salme, ciò avverrà per mezzo di un pontone via mare. In una giornata in cui i lavori di demolizione delle due cappelle dei loculi sul ciglio della frana del cimitero di Camogli si sono intensificati e volgono al termine, i Com Subin, che per sicurezza hanno dovuto limitare l'attività, ieri hanno recuperato 6 salme. Sale così a 32 il numero dei colpi rinvenuti che si sommano a due necinerarie. Intanto dal comune di Camogli arriva una stima esatta dei feretri scivolati in mare. I loculi interessati dal crollo avvenuto la settimana scorsa sono circa 220 per un totale di oltre 320 defunti, considerando tutte le possibili tumulazioni. Oggi ultimata la messa in sicurezza della falesia con la stesura delle reti di contenimento. Domani inizieranno i recuperi sul corpo di frana per mezzo di un pontone. Si stima che la maggior parte dei feretri siano proprio sotto le macerie del costone franato. Oggi sono 22 nuovi casi di positività al coronavirus nel Tiguglio, dove i ricoveri all'ospedale di Sestere Levante sono 45, un in più di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 8. Nel territorio dell'ASL4 le soveglianze attive oggi sono 491, mentre ieri erano 508. Il bollettino diramato da Regione Liguria riporta anche un decesso, quello di una donna di 86 anni, avvenuto l'altro ieri all'ospedale di Sestere Levante. Ieri intanto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti era con il direttore generale dell'ASL4 Paolo Petralia per inaugurare un nuovo mezzo adibito alle vaccinazioni e la piastra ambulatoriale realizzata dalla Coppe di Santa Margherita Ligure. Si vaccina a pieno ritmo nella nuova piastra ambulatoriale, entrata in funzione in tempi record per iniziare le somministrazioni agli over 80, dice il governatore. Una risposta concreta ai bisogni dei cittadini in queste settimane di emergenza, insieme al nuovo mezzo che abbiamo inaugurato per accelerare la campagna vaccinale. In Liguria siamo arrivati a somministrare circa 20.000 dosi a settimana, ma presto aumenteranno anche grazie all'aiuto dei medici di famiglia. Prima metteremo a sicuro i cittadini con il vaccino, prima potremo ritornare alla normalità. Il nuovo ambulatorio mobile dell'ASL4 è costato 75.000 euro. Due giorni fa c'è stato Consiglio Comunale a Lavagna, ma attorno alla diga per figli prosegue il dibattito. La seduta, infatti, ha approvato una mozione contraria al progetto. Il sindaco Gianalberto Mangiante ha pronunciato una redazione dell'Università degli Studi di Genova sulla base della quale Palazzo Franzoni vuole recedere dall'accordo di programma. Se Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova aggiudicheranno comunque gare a palto, afferma Giovanni Melandri, portavoce del Comitato Giù le Mani dal Fiume Entella, dovranno assumersi la responsabilità di un'opera superata e devastante. La mozione è stata presentata dal gruppo 100% Lavagna e secondo i consiglieri comunali Laura Corsi e Mario Maggi Il Consiglio si è riappropriato del proprio ruolo e ne siamo fieri. Corsi e Maggi definiscono poi un passo avanti l'astensione di Officina Lavagnese. Guido Stefani e Aurora Pitao però ritengono il progetto motivato dalle ragioni di aumentare la sicurezza dei nostri centri abitati. Sempre secondo Officina Lavagnese non ci sono secondi o terzi fini speculativi. Non manca poi una frecciata alla giunta da parte sempre di Stefani e Pitao. Ci sembra ancora in cerca di qualche studio, peraltro ancora da effettuare e sicuramente oneroso per Lavagna per giustificare le proprie posizioni. E proseguono le polemiche sulla mozione presentata da Officina Lavagnese in Consiglio Comunale che chiedeva di aderire alla legge proposta dal Comune di Stazema in provincia di Lucca per adottare misure per contrastare le nuove forme di fascismo dopo l'arresto di un giovane a Savona e il saluto romano in Consiglio Comunale a Cogoleto. La maggioranza aveva proposto una dicitura più generica sostenendo che la nostra storia è tristemente contraddistinta da aberranti forme di violenza e di regimi totalitari caratterizzati da dure e vili forme di repressione, oppressione e dispottismo. Secondo i proponenti, consiglieri comunali di minoranza di Officina Lavagnese, Guido Stefani e Aurora Pitau questa avversione non teneva assolutamente conto di quanto avvenuto con i fatti citati e proponendo in modo confuso totalitarismi generici. Maggioranza e opposizione si sono dunque divisi su due testi da votare. La sezione di Lavagna del Lampi però esprime il rammarico per la mancata approvazione della mozione e ha scritto al sindaco Gianalberto Mangiante e al Consiglio Comunale per ricordare i fatti che portarono al conferimento alla città di Lavagna della medaglia d'argento al valore militare per la lotta di liberazione partigiana. L'Associazione dei Partigiani auspica dunque che il Consiglio Comunale possa rivedere la propria decisione possibilmente prima del 24 aprile, giorno in cui a Lavagna viene celebrata la liberazione. Prossimamente verrà giudicata la gara che individuerà la ditta incaricata a realizzare la conclusione del primo stralcio del primo lotto e il secondo stralcio sempre del primo lotto dei lavori relativi alla copertura del torrente San Francesco a Rapallo. La Giunta Comunale ha incontrato infatti i rappresentanti dei commercianti e degli operatori economici cittadini che hanno le loro attività nell'area interessata dal cantiere. Durante la riunione sono stati illustrati i lavori previsti e il cronoprogramma. L'incontro, dice il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, è stato un ottimo esempio di collaborazione tra il comune, le categorie e i cittadini. L'amministrazione comunale ed operatori economici rapallesi torneranno ad incontrarsi ogni due mesi. Grave infortunio sul lavoro per un 47enne è rimasto schiacciato sotto una piccola ruspa capovoltasi. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio in località Levaggi nel comune di Borzonasca. L'operaio, dipendente di una ditta, stava operando con il mezzo meccanico per il rifacimento del manto stradale. Per cause in via di accertamento la piccola ruspa si è capovolta colpendo l'uomo. Immediato l'allarme sul posto invigila il fuoco del distaccamento di Chiavari con personale medico che ha disposto al trasferimento in elicottero e in codice rosso del ferito con gravi traumi all'ospedale San Martino di Genova. Sul posto anche il 118 Tiguglio, un'ambulanza dalla sezione di Mezzanego della Croce Bianca Rapallese e i carabinieri di Borzonasca. Il comune di Recco ha aderito al programma ELENA, strumento per l'assistenza energetica locale European Local Energy Assistance, voluto dalla Commissione europea e dalla Banca europea degli investimenti per progettare e realizzare interventi di efficienza energetica coordinato dal comune di Genova in collaborazione con la città metropolitana di Genova. La giunta comunale ha approvato la diagnosi energetica degli impianti di pubblica illuminazione e delle risultanze energetiche ed economiche in vista della procedura di gara per l'affidamento del contratto di concessione per la riqualificazione energetica con la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunali per i prossimi 15 anni. Le verifiche sull'impianto di illuminazione hanno riportato che ogni anno le lampade risultano accese per 4.200 ore per un costo di circa 226.000 euro anno e un relativo programma di manutenzione che ammonta a circa 27.000 euro. Siamo qui a Calata Ovest, gruppo Marine D, con Marianna De Micheli, un ospite speciale che ha scelto proprio questo porto e Chiavari per dare l'avvio a un progetto meraviglioso, incredibile che adesso ci spiegherà. Il mio progetto è circunnavigare l'Italia, adesso sto andando a Ventimiglia, da Ventimiglia perché proprio è simbolicamente l'inizio dell'Italia, no? E da lì parte in maniera più ufficiale questo giro d'Italia che cercherà veramente di ricoprire il più possibile ogni porto, ogni costo, ogni pezzettino, ogni microbo di luogo per raccontare le coste italiane, i porti, mettere in connessione queste realtà che sono così poco sfruttate in Italia, la nautica è poco sfruttata, abbiamo un patrimonio incredibile, una costa immensa e un molo lunghissimo nel Mar Mediterraneo che a differenza di altre nazioni, insomma, abbiamo molti meno porti, molti meno imbarcazioni, insomma, quindi non capisco perché, perché è meraviglioso vedere la terra dal mare e fare vela, non è così caro come gli italiani pensano, assolutamente, certo se uno vuole lo yacht di 30 metri è ovvio che di conseguenza, ecco, però costa meno di una macchina, almeno la mia è così, ecco, quindi è una cosa accessibile e io consiglio veramente di avvicinarvi a questo mondo. Io farò un video a settimana per YouTube per raccontare appunto la costa e i porti d'Italia. Ecco, in questo viaggio però Mariana non sarà sola in realtà perché avrà un compagno di viaggio che è? Il mio, il mio compagno di viaggio è un gatto che si chiama Jinjok, sempre, sempre protagonista delle mie navigazioni, anche se dorme molto, devo dire la verità, non mi aiuta granché, però ecco, a livello emotivo, psicologico invece devo dire che è determinante. Ecco, naturalmente il viaggio è legato anche alle condizioni della meteo, come si dice in gergo velistico, non del meteo, come diciamo erroneamente, ma più o meno quanto pensi che potrà durare questa tua circonnavigazione? Allora, io il Giro dell'Italia l'ho già fatto, l'ho fatto due volte ed è durato l'estate, diciamo, non l'ho fatto neanche di fretta, mi fermavo tutti i giorni, non ho mai fatto navigazioni per due giorni a file, cioè senza soluzioni di continuità. Questa volta sarò molto più lenta perché facendo video ogni settimana, montarli, girarli, poi voglio raccontare delle storie, quindi non è che arrivo, dormo e me ne vado, no? Quindi vorrei passare nei vari porti, nei vari luoghi, un po' più di giorni per accumulare materiale, registrarlo, montarlo, che non è da poco, per poi metterlo su YouTube. Quindi io, allora, secondo me ci impiegherò con una pausa fra dicembre, gennaio, l'anno prossimo, un paio d'anni. Fantastico, penso che ti seguiremo con grande invidia. Ecco, è la cosa più difficile, è la cosa più piacevole di un'esperienza, di un progetto come questo? La cosa più difficile, secondo me, è momenti di sconforto dovuti alla stanchezza. Magari in alcuni momenti, io sono molto prudente, quindi controllo sempre la meteo in un'una, ne controllo 57 modelli, proprio l'incrocio, e calcolando sempre un po' peggio di quel che potrebbe essere, sono super prudente. Beh, insomma, io ho cominciato, non sono di quelle ragazzine che ho cominciato con gli optimist e così, quindi sono approdata alla Barcavela da adulta, quindi non è che ce l'ho proprio nel sangue, è una cosa nuova per me. E mentre tu parlavi, naturalmente, mi è venuto in mente, cioè, i spettatori ti avranno sicuramente riconosciuta, perché, come avrei chiesto dopo, questa è la tua seconda vita, perché in realtà la tua prima vita è quella di attrice, perché ti avranno sicuramente tutti riconosciuto come una delle protagoniste, se non la protagonista di Cento Vetrine, che poi ha dato spunto a Cento Boline, se non sbaglio, che è il tuo libro. Ecco, come hai, cioè, lo concigli questo duplice veste, oppure sei in stand-by con una carriera e hai iniziato un'altra? Come funziona gestire due vite? Ma io questa non la vedo come una carriera, ma come un modo di vivere, quindi credo di poter fare il mio lavoro anche vivendo in questo modo. Ora, ovviamente, sono impegnata, ma tanto i teatri sono chiusi, quindi, già, e poi comunque sia, per esempio, io sto facendo il mio lavoro, perché sono attrice di me stessa, cioè interpreto, fra virgolette, il mio personaggio, in più sono regista, sono montatrice, sono scenografa, sceneggiatrice, costumista, parrucco, trucco, insomma, faccio tutto io, quindi è il mio mestiere all'ennesima potenza, ecco. In effetti i tuoi video sono estremamente divertenti, sono dei piccoli corti che consiglio di vedere, perché sono esilaranti, davvero molto divertenti, e non riesco a capire come tu possa fare tutto questo in uno studio, teatro, eccetera, eccetera, di pochi metri, tutto sommato. No, senza tutto sommato, sono proprio pochi metri, sì. Ma allora, innanzitutto ci si abitua un po' a stare in uno spazio così piccolo, e devo dire che poi alla fine si apprezza anche, perché è tutto lì, no? Allunghi un braccio e non è che ti devi alzare e fare. Poi è anche vero che lo stipaggio delle cose è sempre sotto qualcosa, quindi se ti serve, no, di aspetto, stava nel gavone sotto a 3.000 altre cose. Poi io sono molto disordinata, devo dire la verità, che per un belista non è proprio l'ideale, ecco. Però in navigazione cerco di essere, se non ordinata, comunque viaggiare in sicurezza, cioè rizzo, come si dice, tutto quanto, di modo che le cose non possano volare, dovesse esserci, insomma, mare mosso, o anche un'onda di un traghetto, ecco. Quindi oltre all'ordine, il mare che cosa insegna? Eh, un sacco di cose. Io credo che il mare insegna ad ognuno di noi quello che gli manca. a me manca la fiducia in me stessa, senz'altro, eh, ma purtroppo non è che sono cose che si scelgono, eh, ci sono. E devo dire che mi ha aiutato moltissimo e sta continuando ad aiutarmi, il percorso è lungo, ovviamente, ma è un mondo dove si ha la possibilità di mettersi a confronto con se stessi, soprattutto se si viaggia in solitaria. Se si viaggia in gruppo, cioè in equipaggio, si imparano tante altre cose, io non l'ho apprezzato molto viaggiare in equipaggio, devo dire la verità, ma appunto per le mie... Caratteristiche. Caratteristiche, ecco, psicologiche. D'estate, adesso viaggio con il mio compagno che non sa niente di vela, quindi io lo scarrozzo e lui fa però dei mangiarini che anche a livello estetico sono una cosa meravigliosa. Quindi siete complementari anche in questo. Ultima domanda, poi ti lasciamo alle tue incombenze perché sono molte sicuramente per preparare un viaggio così. Eri mai stata a Chiavri, nel Tiguglio? Conoscevi la Liguria? Sono stata a Chiavri, non l'ho frequentata moltissimo, ma mia nonna ha vissuto a Chiavri prima della guerra e aveva un parrucchiere, cioè lavorava per un parrucchiere sotto i portici. Ci sono tornata con lei per cercare di individuarlo, non è riuscita a individuarlo. Però questa cosa di essere qui con lei che ha vissuto tantissimi anni qua mi piace molto. Quindi questa scelta di partire un po' da qui forse è dettata anche dal cuore, insomma. Sì, sì. Poi anche mia mamma ci veniva da ragazzina, ci ha legata moltissimo, perché comunque mia nonna poi ci è tornata con la famiglia, eccetera. Quindi sì, poi ho proprio un legame con la Liguria, anche da parte di padre, perché mio nonno era genovese. Quindi proprio per me la Liguria, sì, è una parte di me, cioè una percentuale di me è Ligure. Assessore Gianluca Ratto, oggi insomma a fare gli onori di casa con un ospite davvero speciale che porterà in giro per l'Italia e non solo Chiavari e le sue bellezze. È stata una meravigliosa sorpresa averla qui nel porto di Chiavari. È naturalmente un modo per rilanciare un attimo il brand Chiavari e naturalmente in un momento particolarmente difficile e complesso per la vita del paese, della città, di tutti noi. Siamo perciò particolarmente contenti di avere questa opportunità, grazie soprattutto a lei. Sono veramente dei momenti in cui si può veramente lavorare per il futuro e gettare le basi per uscire da questa situazione. A proposito di futuro, approfittiamo per chiedere cosa bolle in pentola per la prossima estate, Covid permettendo, state già lavorando a diverse manifestazioni, fra le quali ci sono alcune iniziative che vi vedranno partner in collaborazione proprio con Calata Ovest, con il porto. Sì, guardi, ho incontrato proprio ieri l'amministratore delegato Eugenio Michelino che ringrazio sempre perché con noi è sempre particolarmente attento, puntuale. Abbiamo parlato di un progetto importante che sto portando avanti che è l'Economiche Forum Gianini che si svolgerà proprio sul fronte mare tra la colonia Fara, Calata Ovest e Marina Chiavari. Questo per ricordare un grande italiano che ha dato lustro all'Italia nel mondo, che ha fondato la Bank of America, ricordiamocelo, e ci saranno ospiti nazionali e internazionali che verranno proprio qui a Chiavari ed è un modo per parlare di economia, ma per parlare anche di rilancio del turismo in questo, ripeto, momento particolarmente duro. Previsioni per domani, venerdì 5 marzo. Cielo molto nuvoloso con piogge sparse, anche a carattere di rovescio. Venti tradeboli e moderati da est. Mare mosso. Umidità su valori alti. Le temperature previste. Sulla costa tra 11 e 15 gradi. Nell'entoterra tra 5 e 13 gradi. Nell'entoterra tra 5 e 15 gradi. Grazie a tutti.